Radio Radicale, quanto è stata importante la figura di Quintino Sella nella storia economica e politica del nostro Paese? Il Ministro delle Finanze del Regno d'Italia è stato sicuramente un punto di riferimento inelutibile per chi voglia studiare il metodo del rigore economico. Noi lo vogliamo fare qui a Radio Radicale grazie a un bel libro che è stato pubblicato dal Muleno, dal titolo Dalle Alpi alle Finanze, scritto da Fernando Salzano con il sottotitolo Quintino Sella e la satira politica. Il volume raccoglie le vignette della satira politica contro Quintino Sella che possiamo dire è stato il padre del pareggio di bilancio. La sua azione fiscale è stata secondo molti importante ed è stata rivalutata nel corso dei decenni dagli economisti italiani perché è stato comunque il segno di un rigore importante che ha permesso al nostro Paese di raggiungere un equilibrio di bilancio importante che oggi possiamo soltanto sognare vista la difficile situazione del nostro Paese. Noi ne abbiamo voluto parlare con Fernando Salzano che è autore di questo libro ma prima di questo vogliamo farvi ascoltare le voci di alcuni esponenti politici qui a Montecitorio che ci hanno aiutato a capire questa importante figura politica. L'abbiamo fatto con due cittadini di Biella e con un parlamentare giornalista. Quindi ascolterete prima dell'intervista con Fernando Salzano, Roberto Simonetti, ex deputato della Lega biellese e Roberto Pella che è vicepresidente dell'Anci che è un altro autorevole biellese e parente di un ex presidente del Consiglio che è stato anche un autorevole economista e con Andrea Caggino, senatore di Forza Italia. Ecco che cosa ci hanno detto di Quintino Sella. Roberto Simonetti, Lega, già deputato di Biella. Quintino Sella è una figura importante per il territorio biellese e non solo per il territorio locale ma per l'intera nazione in quanto nella sua vita svolse una serie di incarichi di rilevanza nazionale. Durante l'esorgimento fu una delle figure importanti perché proprio dopo l'unità ha dovuto gestire il Ministero delle Finanze e con la tassa del macinato per riuscire a fare il primo pareggio di bilancio di cui ancora oggi purtroppo non si è risolto il problema. E poi fu alpinista, scienziato, si dedicò ai minerali, ai cristalli, inventò la sonometria per la raffigurazione e la misurazione dei cristalli. Un personaggio quindi a tutto tondo che ha dato un'immagine del biellese forte, di ingegno e di caparbietà. Fu ministro con più governi, addirittura anche con un governo La Marmora, altro biellese che si distinse assieme a Sella e ai due fratelli La Marmora durante il risorgimento e fecero la storia d'Italia. Sul territorio biellese è ricordato da una statua in piazza Martiri che lo raffigura possente e in maniera veramente dignitosa. È ricordato per la scuola, intestata lui, del tessile. Tutti i migliori disegnatori del tessuto biellese famoso in tutto il mondo sono passati dall'Istituto Quintino Sella e a fondatore della Banca Sella che è stata la prima banca d'Italia a inoltrarsi nell'online. Non ultimo, biella cittalpina, grazie anche a Quintino Sella, fondatore del CAI, perché fu un grande alpinista che fu tra i primi a salire il Cervino, a salire il Monterosa, a salire tutte le montagne sopra i 4.000 del contesto alpino piemontese del nord Italia. Sono Roberto Pella, sindaco del comune di Valdengo, a 7 km dalla nostra città capoluogo di Biella. Che ricordo ha lasciato Quintino Sella e soprattutto ritiene che oggi Quintino Sella sia un personaggio che viene guardato in maniera strana per il modo di fare politica e per il suo alto senso dello Stato. Allora, noi lo ricordiamo per le tasse, ha portato al pareggio di bilancio che oggi per noi è un miraggio. Quintino Sella sicuramente per noi biellesi rappresenta una delle figure storiche più importanti non solo a livello locale piemontese ma direi a livello nazionale e anche mondiale. Per quello che giustamente sottolineavi tu, una persona che è riuscita a portare in un periodo storico non facile al pareggio di bilancio, uno Stato come l'Italia che era come oggi in grossa difficoltà ma che nello stesso tempo ha avuto la consapevolezza che bisognava mettere nuove tasse ma anche finalizzandole a degli obiettivi ben chiari e non come succede oggi che molte volte le tasse finiscono come si suol dire nel calderone, non si sa in modo particolare dove vanno a finire. È una persona che indubbiamente ha dato lustro e storia al nostro territorio ma direi all'Italia intera per, come dicevamo prima, per la sua capacità di in qualche modo definire una tassa ben precisa ma nello stesso tempo di finalizzarla a quella che era un'iniziativa, un'opera, a quella che era un progetto quello che era un piano di rientro molto chiaro. Ecco, io credo che oggi in Italia ci sarebbe bisogno di figure come la sua non solo perché in qualche modo sapeva dare impulso al miglioramento dei conti ma nello stesso tempo era colui che sensibilizzava in primis lui stesso e poi la sua famiglia perché ancora oggi la famiglia Sella è importante, è peraltro la più grande banca privata italiana è il gruppo Banca Sella dove c'è stato Maurizio che è stato per tanti anni anche presidente dell'ABI oggi è condotta da Pietro Sella. Ecco, come dicevo, sapeva in qualche modo anche sensibilizzare a partire dai propri cari, da se stesso, poi il pagamento dell'imposta e della tassa stessa. Quindi devo dire che questa figura per noi ha rappresentato un punto di riferimento per i bilanci dello Stato, è stato importante. Se poi mi permetti, dopo Quintino Sella nel Bielese c'è stata un'altra figura importante che insomma porta il mio nome, era un mio lontano parente, Giuseppe Bella che anche lui è stato per ben sette volte ministro, l'ultima volta nel governo Andreotti nel 72 e soprattutto anche lui per diverse volte ha ricoperto il ruolo di ministro delle finanze e dell'economia e anche lui se andiamo a analizzare la storia ha saputo sempre dare un forte impulso a quello che era il rigore ma nello stesso tempo anche lo sviluppo. Lui era un grande commercialista che ha saputo in qualche modo pareggiare i conti ma anche a rilanciare il nostro paese. Quindi io oggi devo dire che dopo queste due figure sono contento, lo dico in questo caso come deputato, che oggi questa nazione sia guidata da un uomo come Mario Draghi che anche lui è un grande economista, anche lui è un uomo di banca, anche lui è un uomo diciamo di impresa e che quindi può in qualche modo mettere mano a questi conti. Dobbiamo dire che abbiamo oggi già riscontrato che è saputo in qualche modo apportare dall'Europa parecchi fondi nel canto alle PNRR o al recovery e soprattutto a quella credibilità come aveva Sella o come aveva Giuseppe Pella anche di riconoscenza non solo delle forze di maggioranza ma anche delle forze di opposizione ed erano delle persone che in qualche modo sapevano non fare la polemica ma costruire anche attraverso i rapporti con tra virgolette gli avversari quello che era il bene comune. Quindi come biellese siamo onorati di aver avuto Quintino Sella perché sicuramente ha dato non solo grossi risultati all'Italia ma anche in modo particolare sul nostro territorio perché devo dire ancora oggi molte delle opere che ci sono sono anche merito alla sua forte azione di impulso che ha dato non solo come politico ma anche come uomo di banca. Sono Andrea Cangini, senatore di Forse Italia. Credo che ricordare in questa fase storica e politica la figura di Quintino Sella sia più che necessario. Grande uomo di Stato, grande economista, rissanò i conti pubblici e lo fece con un senso di responsabilità e un rigore purtroppo di altri tempi. Piccolo aneddoto per capire la statura dell'uomo, quando usciva la sera tardi dal Ministero delle Finanze con una matita segnava il livello del petrolio nelle lampade per essere sicuro che nessuno lo avrebbe rubato. Radio Radicale, come detto siamo in collegamento con Fernando Salsano, autore Dalle Alpi alle Finanze, Quintino Sella e la satira politica. Eccolo qua, il libro è quanto mai interessante. Io l'ho scoperto alla fine dello scorso anno in una libreria di Roma e mi è piaciuto moltissimo e ho deciso di fare una chiacchierata con l'autore perché innanzitutto la figura di Quintino Sella si presta a tante interpretazioni, ma è quanto mai attuale, visto le emergenze che noi dobbiamo affrontare sia per il nostro debito pubblico che per la necessità di far fronte non solo alle difficoltà che conosciamo, ma anche alle difficoltà che dovremmo affrontare quando tutto tornerà o dovrebbe tornare come prima, ci auguriamo il più presto possibile dopo questa pandemia. Lei ha avuto modo di sentire i contributi dell'ex onorevole Simonetti, di Roberto Pelle e anche di Andrea Cangini. Allora, come ha trovato i ritratti che hanno fatto questi tre esponenti politici? Se si ritrova con quello che ha scritto lei e com'è nata innanzitutto l'idea di fare questo libro? Certo, allora per rispondere alla sua prima domanda innanzitutto ho notato che tutti i tre commentatori hanno sottolineato due aspetti che secondo me sono centrali proprio rispetto alla figura di Sella. Uno è quello della sua poliedricità, cioè la sua capacità poi di emergere in campi molto differenti tra di loro, appunto noi tutti lo conosciamo come esponente politico, come ministro delle finanze, ma poi come hanno sottolineato anche i commentatori, Sella fu molto attivo e famoso anche in altri campi, a cominciare dall'alpinismo, a cominciare dalla ricerca scientifica, lui era un mineralologo e tante altre, era un figlio di una famiglia di industriali, quindi era anche un imprenditore, insomma questo aspetto della sua figura, questa sua capacità di emergere e di essere attivo in diversi campi è sicuramente una delle caratteristiche che più rendono il personaggio. L'altro elemento che hanno sottolineato tutti i commentatori e che ha sottolineato anche lei nell'introdurre l'intervista è quello della sua attualità, cioè nonostante stiamo parlando di un personaggio vissuto 150 anni fa, ovviamente in un contesto molto diverso da quello odierno, però è un personaggio che ha dovuto affrontare appunto alcuni problemi che ancora sono drammaticamente attuali per il nostro paese, chiaramente in condizioni, in contesti differenti, però ecco, il fatto che non stiamo parlando solamente di un personaggio del passato, ma anche di una figura molto attuale, mi sembra un elemento che tutti i commentatori che lei ha intervistato hanno sottolineato. Aspetta, per quanto riguarda gli attacchi che lui ha subito, allora lei è un dottore di ricerca in storia politica e sociale e si occupa di storia economica. Le volevo chiedere come è nata l'idea proprio di occuparsi di questo aspetto di Quintino Sella, della satira politica e volevo chiederle se lei, conoscendo poi come è andata la storia economica del nostro paese, se ha riscontri negli attacchi della satira simili ad altri esponenti politici che poi si sono succeduti, magari non so, posso fare l'esempio di Tremonti che è un personaggio che è molto vicino a noi. Sì, allora per quanto riguarda l'idea del libro, il libro possiamo dire in un certo senso la prosecuzione di un'altra ricerca che avevo fatto anni prima e che era poi stata pubblicata in un altro libro, sempre sul mulino, diciamo più incentrato proprio sull'attività di Sella come Ministro delle Finanze. E durante le ricerche per il primo libro che avevo pubblicato appunto su Quintino Sella, nei documenti privati dello stesso Sella erano emerse vignette satiriche che lo stesso Ministro delle Finanze conservava gelosamente, c'era una vera e propria collezione. Ecco, da lì è nata poi l'idea di pubblicare queste vignette satiriche chiaramente accompagnandole da, come l'era visto nel libro, accompagnandole da commenti e spiegazioni che ci permettono di renderle comprensibili perché poi ovviamente la vignetta satirica è come un editoriale di giornale, può invecchiare bene o può invecchiare male, può essere leggibile anche a distanza di un secolo e mezzo oppure può risultare incomprensibile al lettore contemporaneo. Ecco, da lì era nata l'idea appunto di valorizzare questo patrimonio di vignette e anche allo scopo di far emergere in che modo l'opinione pubblica percepisse la politica fiscale che come sappiamo a quel tempo era anche piuttosto dura, tutti sappiamo che la tassa sul macinato fu una sorta di trauma per l'Italia post-unitaria. Ecco, un po' l'idea era quella di seguire questo filone, di vedere poi anche come i giornali satirici di diverse tendenze ovviamente leggessero in maniera differente, da diverse angolazioni, la politica fiscale di Sella. Per quanto riguarda il paragone con l'oggi, ecco, questo forse è più difficile perché la satira innanzitutto ha un registro molto differente, io non sono espertissimo di satira, però insomma per quanto ne ho studiato, la mia formazione come lei ha sottolineato è più sulla storia economica, quindi proprio su ciò che Sella ha fatto come ministro. Però vedendo queste vignette della seconda metà dell'Ottocento si nota come la satira avesse un linguaggio più complesso forse di quella di oggi, avesse molti riferimenti anche culturali, quindi la vignetta poteva essere letta diciamo da diversi tipi di pubblico, da quello meno istruito, insomma, più di massa che magari non sapeva neanche leggere, quindi quella era anche una delle principali fonti di informazione sulla vita politica, ma anche a un pubblico particolarmente colto, ci sono riferimenti letterari, riferimenti biblici o mitologici in queste vignette. Ecco, la satira di oggi, ma forse proprio il linguaggio politico di oggi, questo è anche più esperto di me, è più diretto, più duro, punta forse più a mettere in difficoltà il personaggio rappresentato. Questo non vuol dire che le vignette Sossella poi fossero morbide, perché anzi lui veniva presentato come un vampiro, come uno spremitore dei poveri contribuenti, quindi insomma, ovviamente la critica c'era. Però, ecco, forse era presentata con un linguaggio più articolato, che permetteva diversi livelli di lettura, mentre oggi forse la satira è più diretta da un certo punto di vista. Senta, lei pensa che l'Italia abbia sfiorato la rivoluzione con i provvedimenti di Sella. Possiamo escludere di definirlo come un tecnico delle finanze? Allora, lui è riuscito, credo l'unico nella storia d'Italia, a raggiungere il pareggio di bilancio, anche se effettivamente è arrivato il momento in cui lui non era alle finanze, ma ritiene che il nostro paese appena nato è stato esasperato da Quintino Sella e che in qualche caso si è sfiorato addirittura quello che era successo a quelli che oggi conosciamo come gli Stati Uniti alla fine del diciottesimo secolo. Beh, diciamo che sicuramente i provvedimenti fiscali di Sella hanno suscitato una dura opposizione e anche moti di piazza. Ecco, se questi potessero fociare in una rivoluzione, addirittura in una guerra civile sul modello americano, non possiamo dirlo e in realtà lo ritengo difficile. Quello che vorrei sottolineare però è che appunto i provvedimenti fiscali non è che venissero dal nulla, in qualche modo erano anche frutto di alcune scelte che erano state compiute all'indomani proprio dell'unità e soprattutto quella di aumentare il debito pubblico che in parte era già consistente perché l'Italia Unita aveva ereditato i debiti degli Stati preunitari che erano comunque ad un livello ancora accettabile. Dopodiché chiaramente c'erano da fare molte spese per unificare il Paese anche dal punto di vista amministrativo ma anche dal punto di vista dei trasporti, pensiamo alla rete ferroviaria che era ancora del tutto insufficiente rispetto agli standard europei. Ecco, tutte queste necessità chiaramente avevano richiesto spese consistenti, spese importanti da parte dello Stato e si era scelto di far fronte a queste spese soprattutto con l'indebitamento facendo anche leva su una situazione favorevole di tassi e sul ruolo della banca Rothschild come intermediario. Nel momento in cui invece appunto questa situazione era mutata soprattutto perché l'Italia era entrata in guerra nel 1866 con l'Austria per ottenere il Veneto ma erano cambiate anche le condizioni della finanza internazionale c'era un corso, una crisi finanziaria internazionale ecco in quel momento ecco che l'Italia si è trovata diciamo a rischio default e quindi i provvedimenti fiscali di Sella appunto non è che fossero solamente frutto della sua volontà di spremere gli italiani come veniva presentata poi appunto in molte delle vignette e si trattava proprio di far fronte a una situazione di deficit di bilancio e di indebitamento che ormai non era più sostenibile date le situazioni cambiate le mutate condizioni. I vignettisti dell'epoca su cosa lo attaccavano? Io ho visto che ci sono parecchie vignette dove lui viene preso per i fondelli per questa cosa della passione per la montagna lui tra l'altro è stato il fondatore del club alpino italiano volevo sapere innanzitutto qual è stata la vignetta più cattiva che lei ha visto e soprattutto come ha trovato il fatto insomma che se la prendessero con questa sua passione per l'alpinismo Sì, allora questo di rappresentarlo appunto come alpinista era da un lato sicuramente un modo per prenderlo in giro e per mostrarlo anche come individuo in un certo senso rozzo, montanaro come veniva a volte anche descritto appunto uno che non guardava tanto per il sottile e che pensava solamente ai risultati pratici però poi in realtà non tutte le vignette danno una connotazione così negativa al suo essere alpinista ad esempio uno dei maggiori autori del tempo Casimiro Teia che è diciamo un vero e proprio mostro sacro nella storia delle vignette satiriche della satira politica italiana era lui stesso un alpinista era lui stesso socio del club alpino quindi condivideva con Sella questa passione e quindi in un certo senso lui oltretutto era anche di tendenze politiche diciamo vicine a quelle di Sella quindi in realtà nel mostrarlo come un alpinista uno mostrava come uomo appunto si rude ma anche coraggioso anche volenteroso quindi non voleva avere una connotazione negativa per quanto riguarda le vignette più cattive sono indeciso tra quelle pubblicate dai giornali toscani come ad esempio il Lampione che era un giornale di tendenze comunque conservatrici ma legato al gruppo toscano che in Parlamento era avversario di Sella di tutti i provvedimenti di Sella però direi che forse quelle più cattive in assoluto sono quelle pubblicate dai giornali clericali di Roma dopo il 20 settembre del 1870 Sella aveva avuto un ruolo di primo piano nell'insistere perché l'Italia entrasse a Roma perché Roma diventasse la capitale d'Italia e questo chiaramente ne aveva fatto avversario politico invece per gli ambienti più conservatori per gli ambienti più vicini a Pio IX ecco quindi forse le vignette più cattive sono proprio quelle che lo ritraggono c'è tutta una serie io non ho pubblicato alcune sul libro ma era una serie che usciva settimanalmente sulle piaghe d'Egitto rifacendosi alle piaghe bibliche e in cui Sella era spesso presentato come una di queste piaghe lui aveva si può dire che i costumi dell'epoca erano più diciamo cavallereschi perché io ho visto che lui mi sembra che non avesse buonissimi rapporti con Urbano Rattazzi però in qualche caso lui ha difeso un suo avversario in Parlamento e ha difeso i suoi provvedimenti allora questa cosa è molto strana per come siamo abituati oggi dove per riconoscere qualche cosa bisogna fare uno sforzo enorme in politica dove non si riconosce niente e riconoscere qualcosa viene considerato una grande sconfitta è vero è vero ma più che all'educazione diciamo alla cavalleria del tempo che pure è vero forse era maggiore di adesso direi che c'era proprio questa consapevolezza del fatto di lui stesso mi sembra che non mi ricordo se l'ho pubblicato ma lui stesso lo afferma a un certo punto dice non sono dell'opinione che un ministro nel momento in cui entra in carica debba disfare tutto ciò che ha fatto il suo predecessore infatti lui era in rivalità personale e politica non solo con Rattazzi ma soprattutto con con Minghetti entrambi avevano l'obiettivo del pareggio di bilancio ma avevano idee differenti su come questo pareggio di bilancio dovesse essere raggiunto e come diceva lei e poi fu lo stesso Sella invece a difendere Minghetti nel momento in cui era Minghetti a trovarsi al Ministero delle Finanze a trovarsi sotto il fuoco delle opposizioni e lì fu lo stesso Sella a difenderlo così come lo difese quando era invece lui in carica di Ministro delle Finanze e venivano rimbangati alcuni provvedimenti di Minghetti quindi sì forse c'era una maggiore educazione diciamo una maggiore cavalleria nei rapporti tra politici anche di diversi schieramenti o comunque divisi da rivalità personali ma soprattutto c'era secondo me una maggiore consapevolezza della continuità anche delle politiche dell'importanza di portare avanti anche progetti che magari erano stati iniziati da qualcun altro e che però venivano portati avanti poi dai ministri successivi due ultime domande quanto è stato importante Quintino Sella per Roma capitale dopo il 1870 cioè la sua importanza anche storica che secondo me non è stata molto riconosciuta qui a Roma e poi come la Satira lo ha descritto dopo la sua morte ecco ritiene che ci sia stata una rivalutazione di questo grande di questo grande uomo che è passato attraverso una stagione politica sconvolgente che ha visto tre capitali d'Italia è vero è vero entrambe entrambe le cose per quanto riguarda Roma Sella ha avuto un ruolo decisivo sia appunto come dicevo prima nel insistere perché il governo italiano approfittasse della situazione che si era creata con la guerra franco-prussiana per appunto entrare a Roma e per farne e per farne la capitale del regno d'Italia ma Quintino Sella ebbe un ruolo fondamentale anche poi nel dibattito sul modo in cui lo Stato doveva essere a Roma sul modo in cui la stessa città di Roma doveva trasformarsi doveva svilupparsi e diventare una grande capitale di livello europeo perché Roma poi quando diventò appunto capitale italiana era ancora una città sostanzialmente arretrata una città di anzian regime invece Sella insisteva innanzitutto era l'unico politico diciamo di livello nazionale ad avere un'idea di come dovesse svilupparsi Roma dal punto di vista urbanistico lui aveva l'idea appunto di creare una nuova città una città di cui c'è ancora in parte traccia che doveva sorgere intorno all'asse di via 20 settembre dove dovevano essere costruiti secondo lui tutti i ministeri doveva nascere una sorta di città amministrativa infatti insistette per realizzarvi il ministero delle finanze che tutti oggi conosciamo e che svetta sull'asse appunto di via 20 settembre ma non solo Quintino Sella era convinto che Roma dovesse assumere una missione universale perché solamente con una missione universale avrebbe potuto in qualche modo la Roma italiana competere con la Roma pontificia e secondo Sella questa missione universale era quella di diventare la capitale internazionale della scienza ecco Roma doveva diventare la serie di prestigiose istituzioni a cominciare dall'Accademia dei Lincei di cui lui fu il promotore della rinascita dell'Accademia dei Lincei ma anche appunto dello sviluppo dell'università della biblioteca nazionale di un archivio storico centrale insomma di laboratori scientifici ecco la sua idea era che Roma dovesse diventare la capitale se non mondiale perlomeno europea della scienza lui poi per la scienza appunto aveva una particolare predilezione e tuttavia questo questo progetto certo ne abbiamo ne sono rimasti delle tracce delle eredità anche importanti appunto a cominciare dalla biblioteca nazionale o dall'Accademia dei Lincei ma poi come sappiamo si è realizzato solamente in minima parte insomma Roma non è riuscita ad assumere questo ruolo di capitale internazionale della scienza e per quanto riguarda l'eredità di Quintino Sella nella satira politica ecco citavo prima Casimiro Teia che era stato uno dei principali autori che lo aveva rappresentato ecco dopo la morte di Sella lui ma anche altri autori satirici continuarono a rappresentarlo nelle loro vignette solamente che adesso Sella non era più l'oggetto appunto delle critiche l'oggetto della satira ma diventava invece una sorta di esempio che i successivi ministri delle finanze a cominciare da Giolitti ma anche i ministri della sinistra storica avrebbero dovuto seguire quindi Sella che prima era rappresentato appunto come lo spietato torchiatore dei contribuenti adesso veniva invece presentato come colui che non aveva tenuto in conto la popolarità non si era preoccupato della popolarità ma che aveva perseguito solamente il bene del paese bene io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci parlato dalle alpi alle finanze il suo bel libro pubblicato per il mulino Quintino Selle la satira politica ringrazio l'autore Fernando Salsano che ci ha permesso di riflettere su questa importante figura politica che purtroppo è stata dimenticata e che noi vogliamo ricordare grazie grazie a voi grazie